Buonasera da Meteo.it. La giornata di martedì vedrà ancora l'Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico perché al nord arriverà una nuova perturbazione atlantica che porterà i temporali, al centro-sud invece ancora tanto sole e caldo. Diamo uno sguardo alle temperature perché al nord saranno più contenute con valori compresi tra 27 e 33 gradi, al sud invece ancora punte localmente di 39-40 gradi. Ma vediamo nel dettaglio la previsione perché il rischio di rovescio temporale interesserà le Alpi occidentali, poi durante la notte i fenomeni si estenderanno su gran parte delle regioni settentrionali. Tutti i dettagli come di consueto sul nostro sito www.meteo.it.